Sono sicuramente molti gli aretini che trascorreranno le festività natalizie a letto con l'influenza. Qual è la situazione in Toscana ad oggi? Quest'anno l'epidemia influenzale è iniziata prima, più precocemente rispetto agli anni precedenti. Abitualmente in passato si cominciavano a contare i casi dopo Natale e in particolare a gennaio. Invece quest'anno non solo in Toscana ma nell'intera Italia abbiamo iniziato a osservare un certo incremento dei casi fin da dicembre. L'incidenza sia come media toscana che a livello nazionale è comunque ancora bassa. Siamo intorno ai 4 casi per mille assistiti segnalati dai medici sentinella. Si può parlare anche di prevenzione, quali sono i comportamenti da mettere in atto sia se ci trovassimo già a letto con l'influenza ma anche per prevenire l'influenza stessa? Intanto la prima raccomandazione, se si ha la febbre è bene stare a casa, non uscire perché chiaramente possiamo trasmettere l'infezione ad altre persone. Per coloro che stanno bene, non frequentare luoghi affollati perché l'influenza è una malattia che si trasmette per via respiratoria. Quando abbiamo la tosse o dobbiamo starnutire, portare sempre la mano davanti alla bocca. Le mani, se abbiamo tossito, starnutito, vanno lavate accuratamente. Rispettando queste regole, io credo che oltre chiaramente ad aver effettuato la vaccinazione antinfluenzale, riusciremo a tenere l'influenza fuori dalla nostra porta di casa. L'altra faccia della prevenzione è sicuramente la vaccinazione. A che punto siamo? In Toscana e ad Arezzo? La vaccinazione quest'anno sta andando molto bene. Ad Arezzo, ad esempio, siamo stati costretti a riapprovvigionare nuovo vaccino e quindi abbiamo distribuito circa 70.000 dosi di vaccino. Quindi una efficace campagna, una campagna riuscita è veramente un biglietto da visita importantissimo per la prevenzione dell'influenza, in particolare per quelle persone che sono a maggior rischio e per le persone anziane.